Buongiorno, partiamo dalle notizie dei giornali di oggi. Vi ricordo a tutti quanti che questa sera, come spesso avviene il mercoledì, c'è Matrix, quindi state tutti quanti connessi su Canale 5. Partiamo invece da quello che c'è sui giornali. Direi di partire da questo titolo poco fantasioso che praticamente hanno fatto quasi tutti i giornali sulla guerra tra le procure sulla questione dell'ONG. Quello che è successo è che in commissione difesa al Senato, Nicola Latorre, presidente della commissione di difesa, ha iniziato a sentire, a fare le cosiddette audizioni per sentire tutte le voci in campo e siccome il PM di Siracusa e non solo quello di Siracusa hanno negato di avere alcuna evidenza che ci siano dei contatti tra ONG e scafisti, si parla subito di guerra delle procure. La realtà è che l'unico magistrato che ha parlato di questa cosa è il procuratore di Catania e contro di lui si sta muovendo tutta l'informazione e tutti i benpensanti. Non si toccano le dichiarazioni di Zuccaro, c'è da dire che i magistrati è meglio che a mio avviso non parlino e parlino attraverso gli atti e non attraverso altri strumenti, ma mi sembra anche ridicolo che l'unico che ha parlato in realtà senza dire cose sconvolgenti, cioè Zuccaro, venga preso di mira da CSM, giornali, Saviano, oggi su Repubblica, attacchi incredibili. Il molto poco cristiano, presidente di migrantes, Monsignor Perego, ci ha detto due cose, lo trovate sull'avvenire di oggi, fuoco politico vergognoso, solo per il fatto che qualcuno si ponga una domanda, scusate, poi come mai sono nate 4-5 ONG negli ultimi due anni e queste spendono 400 mila euro al mese per poter fare il salvataggio? Scusate, ce lo spiegate, visto che le ONG nelle città stanno facendo, come si vede con le inchieste di Roma, qualche business con i migranti e soprattutto è corretto, come dice il presidente di ONG, sempre Perego, oggi sull'avvenire, che in Italia sono arrivate 175 mila persone che se ben accolte potrebbero essere una ricchezza di questo paese e anzi noi dobbiamo continuare ad accogliere persone. Allora mi chiedo, caro Monsignor Perego, qualcuno l'ha eletta? Qualcuno l'ha votata? Il suo fuoco politico vergognoso? Cerchiamo di riflettere che anche se in Italia non si vota spesso, a differenza sua, questi signori sono stati votati, non le piaceranno, ma sono stati votati, non la fanno le ONG, la politica dell'immigrazione in Italia, perché se così fosse, caro Monsignor Perego, probabilmente le cose sarebbero ancora peggio di come sono oggi. Le guerre in procura e soprattutto il finto dossier dei servizi segreti, siccome io ce l'ho avuto Zuccaro in trasmissione, cari amici, non ha mai parlato di un dossier dei servizi segreti, ma ha parlato Zuccaro di evidenze per le quali ci sono contatti tra ONG e scafisti o evidenze che non possono essere utilizzate in processo perché non sono state fatte dalla polizia giudiziaria, cioè della polizia che può provarle in un processo. Oggi, tant'è che leggo su Repubblica, che un dossier c'è, lo scrivo, mi sembra Bonini, ma non lo fanno i servizi segreti italiani che ieri hanno negato l'esistenza di un dossier, ma lo fa Frontex con la sua intelligence, cioè coloro che stanno lì sul campo. Quindi qualcosa di, voglio dire, ma è come normale, è come dire che io vado in una zona di spaccio a Roma e non penso che ci siano gli spacciatori, vado in una zona in cui ci sono un atto criminale come quello degli scafisti e non penso che ci siano degli scafisti, dei tentativi di contatti, poi non è detto che ovviamente rappresenti tutti le ONG. Oggi, libero, no scusate la verità, titola su un tema che anche a me poi mi affascina molto, la Commissione Difesa della Camera convoca le ONG, tre di loro non si presentano, porca puttana, tre di loro non si presentano, dicono noi non ci veniamo alla Commissione di Senato della Camera, quelli vengono, giustamente scrive la verità, nel nostro mare, nel nostro territorio ci sbarcano decine di migliaia di persone che non sbarcano in altri porti, non li sbarcano a Malta, non li sbarcano in Spagna, non li sbarcano in Tunisia, non li sbarcano dove cacchio gli per a loro, le sbarcano nei nostri porti, poi la Commissione Difesa convoca queste tre ONG e non si presentano. Caro Monsignor Perego, come la mettiamo con le tre ONG che non si presentano alla convocazione fatta dalla Commissione Difesa della Camera? Ci vogliamo porre una domanda su se questo è l'atteggiamento collaborativo rispetto a una democrazia che attraverso le commissioni può indagare, chiedere, informarsi, fare leggi o no? Monsignor Perego, lo decidiamo soltanto nelle sue stanzette della ONG, come si lavora? Seconda questione di oggi è l'Alitalia, cioè su tutti i giornali chi dà più o maggior spazio di Alitalia, il prestito ponte che verrà fatto all'Italia per non grounding, come si dice, per non lasciare sul terreno gli aerei è di 600 milioni, che vuol dire che non c'erano più, come ho scritto più volte, una lira in cassa, complimenti al management che arriva fino alla morte, 600 milioni. Mi chiedo, ma i 600 milioni a una società che perde un milione di euro al giorno e che ne ha persi nel 2016 400 e che nei prossimi mesi gestita da tre commissari, se ILVA insegna qualcosa, certamente non sarà la compagnia aerea più brillante e più redditizia del mondo. Immaginate voi se dovete fare una scelta di una presentazione fra sei mesi, purtroppo tra una compagnia italiana che sta in liquidazione e una compagnia tedesca che non è in liquidazione, qualcuno di voi forse ci può pensare. Io continuo a viaggiare all'Italia, però il 90% delle persone magari non ragiona così. Allora mi chiedo, una società che perde un milione di euro al giorno, gli prestano 600 milioni, ma qualcuno di voi gli presterebbe dei soldi dall'Italia? O hai una certa ragionevole certezza, una certa ragionevole sicurezza che questi 100 milioni se rimagneranno all'Italia? Parliamoci chiaro e non prendiamoci per il culo, 600 milioni sono un nuovo aiuto di Stato che dall'Italia si becca. Certo, con l'Europa cosa abbiamo dovuto dire? Che ci pagano interessi del 10-11%, il che vuol dire 60 milioni di euro all'anno che l'Italia dovrà pagare oggi allo Stato per questi prestiti. Questi 60 milioni se li pagano con gli stessi soldi dei prestiti? Di che stiamo parlando? Ragazzi, è il gioco delle tre carte! Dovevo avere 500 milioni, gliene do 600, quindi 100 milioni in più e con quei 100 milioni in più gli paga un anno e mezzo di interessi che lo Stato pretende da me. Tanto poi alla fine pagate voi, cioè io, noi, tutti quanti noi. Non è molto complicato da capire quello che sta avvenendo, d'altronde anche la soluzione cioè quella di mettere, come dicono giustamente i politici e il governo, mettere a terra questi aerei, non è semplicissimo, non tanto per i dipendenti che hanno scelto che cosa fare, cioè votare no al referendum, ma per un sistema paese che è difficile. Cioè la Svizzera in realtà ha con Suisserla fatto il grounding, ma a casa nostra queste cose non si possono fare. Bene, questa è la situazione d'Italia, ne vedremo ancora delle belle. Tra l'altro mi sembra che la stampa oggi metta in evidenza in prima pagina che Renzi abbia un'idea completamente diversa rispetto a quella di calenda, cioè quella di entrare di nuovo lo Stato, mettere un pezzettino, un piede all'interno dell'Italia e così ci siamo giocati anche un'altra volta la nazionalizzazione, altro che privatizzazione dell'Italia. A proposito di magistrati vi segnalo un'altra cosa stupenda, il giornale in questo fa benissimo. I magistrati vanno in vacanza per dal 16 luglio all'11 settembre, mentre noi abbiamo un arretrato mostruoso, secondo Fazzo le udienze del Tribunale di Brescia, dal 16 luglio al 3 settembre, scusatemi, all'11 settembre non si fanno. Ma di che stiamo parlando? Quando Renzi disse giustamente di ridurre 32 giorni le ferie dei magistrati da 45, ci fu una sollevazione generale. Io qua mi chiedo di che stiamo parlando? Le procure, il CSM, i tribunali, le corte di appello fanno sì che da metà luglio fino a metà settembre non ci siano udienze e poi tu ti chiedi come cacchio è possibile che la gente subisca mesi e mesi di ritardo. Certo ci sono le udienze urgenti, i magistrati che stanno vedendo questa zuppa diranno ma non generalizzare e sicuramente come dicono loro, non dobbiamo generalizzare. Ma ragazzi è finito il mondo, è finito il mondo per cui possiamo pensare che da metà luglio a metà settembre non ci sia una giustizia civile, penale, soprattutto civile in un paese come il nostro. È finito il mondo, inventate in un sistema alternativo, fate quello che purtroppo facciamo tutti quanti noi, i turni. Il sabato ci hanno spiegato non si lavora nei tribunali, alcuni dicono di sì, altri dicono di no. Insomma oggi Fazzo racconta una storia stupenda sulle ferie dei magistrati che sono ferie, le ferie magari tecnicamente sono quelle ridotte da Renzi ma l'organizzazione del tribunale è tale per cui non ci sono le udienze che quello che conta a noi. Chi se ne frega delle ferie? Il punto è che io a fine luglio ancora voglio avere un tribunale che sia attivo e lo vorrei anche all'inizio di agosto, permettetemi, e anche a metà agosto la giustizia non può andare in ferie, mai! Fate i turni come in tutti quanti i lavori, come fa la polizia, come fanno i giornalisti. Vabbè, certo i giornalisti spiegare ai magistrati come si lavora, noi lavoriamo veramente poco. Vabbè, il capo della procura di Parma indaga il sindaco di Forza Italia, lo fa arrestare, poi quando va in pensione si candida in una lista di sinistra a Parma. Se questo per voi è normale, ditemi voi che cosa dobbiamo fare. Si candida con una lista di sinistra il procuratore che ha messo nei guai la giunta di destra di Parma. Io lo trovo incredibile. Solo la stampa si rende conto oggi di un dato che è pubblicato dall'Istat che è fondamentale e cioè che gli over 50 hanno un numero di succupati superiore alla fascia tra i 15 e i 24 anni. Ci abbiamo sbomballato il blog, come direbbe qualcuno, per anni sul fatto che i giovani non c'erano lavoro. È vero che non c'erano lavoro, che non hanno prospettive, è vero che non possono farsi una vita, è vero che non si possono fare una vita. Un cinquantenne invece che perde il lavoro e oggi c'è un numero di cinquantenni disoccupati, superiori e giovani, la vita che si è fatto, la casa che si è fatto, il mutuo che si è fatto, le prospettive che si è fatto, la sanità che si deve pagare, dove la mette? Il tema fondamentale è che la retorica sui giovani, garanzia giovani, un miliardo e mezzo che aveva speso questa garanzia a giovani, beh, tutta sta retorica sui giovani, non che non sia importata, è fondamentale, ma è una retorica che sbaglia un obiettivo, il problema non è trovare il lavoro ai giovani, è trovare il lavoro, punto! Il problema dell'emergenza del lavoro e della flessibilità sul lavoro vale per tutti, ogni età, è infelice a modo suo, direbbe qualcuno, cioè ha i suoi problemi. L'UNESCO, finalmente l'Italia, vota, questa è una buona notizia dal mio punto di vista, l'Italia e Alfano fanno una cosa santa, sacrosanta e non votano contro Israele, anzi bocciano la proposta dell'UNESCO di un testo anti-israeliano, ve ne ricorderete, ne avremo parlato qua, ogni tanto c'è qualcosa di buono che avviene, sei pagine ancora dedicate alle primarie del PD, interesse zero! Chi se ne frega, intervista Martina, Speranza, risposta di quell'altro, cioè roba fuffa, è legge elettorale, ma di che stiamo parlando? Quando la faranno ne parleremo, l'unica cosa interessante forse, e in fondo è il pezzo oggi, tra tutti vi segnalo quello di Polito, che sul Corriere della Sera nel fondo dice, è il primo caso in cui un segretario del PD che perde le elezioni, poi dopo riesce a ridiventare segretario del partito, non è successo a Veltroni, mi sembra a D'Alema, non so a chi altro, insomma se volete siete appassionati di politica, oggi avete sei pagine sul Corriere, cinque pagine sul Corriere, su tutti gli altri giornali, su queste primarie del PD e con il fatto quotidiano che si chiede in apertura, solo dopo tre giorni arriva il nome degli eletti e dei non eletti, allora io mi chiedo, ma sono un'organizzazione privata, il partito fa quello che fa, non è una democrazia pubblica, facessero come gli pare, insomma vi do un saluto, vi do un abbraccio, vi dico che questa sera, vi ricordo che questa sera c'è Matrix come sempre alle 23.30 dopo la partita e noi ci vediamo stasera con Matrix e domani con un'altra zuppa di porro e forse qualcosa nel frattempo, ciao! Grazie a tutti!